molto più sostuoso, un'attività dell'opera, un prodotto di conquiste spesso al posto della vita, di grandi lotti, di grandi battaglie, e non ci siamo ancora, non ci siamo ancora, anche se non ci siamo ancora, e coloro che hanno parlato ancora di una democrazia da Italia, la malattia, la vera, le proposte delle donne, le donne italiane che oggi, come queste, degli anni 50, sono stati noti, hanno fatto parte da gigante, infatti io siamo un attivatore che rappresenta tanti, un attivatore in giro capitale, ha fatto una docente universitaria, sono tante docente universitarie, purtroppo questo è un contrattamento, ci si ferma a pensare le lezioni a livelli e bassi, ma così come ci si ferma i livelli e bassi delle graviette, perché ci sono molte donne della magistratura, o altre concezioni della giocatura, ma le donne italiane, le donne italiane, le donne italiane, ma dicono di loro, ronario, equipare questo anche al 30% di neri, perché non sono arrivati agli occhi, dell'ottimitore pubblicavano in continuo, quindi, o magari di consigliare queste cose, o di fare le testa, di depresa in qualche modo, le cose nascono in regione della giocchiera, o di quelle così le situazioni di un'estremo efficienza, e questo, perché non ci siamo ancora sono ancora per la tua parte italiana, per un momento in cui si e che raccova molto, molti tutti, molti tribunali, molte tribunali, molti tribunali.